Il Mastro delle Vedove, prego. Grazie Presidente. Come tutti sappiamo il 22 febbraio del 2021 Luca Attanasio, ambasciatore in Congo, e il carabiniere Vittorio Iacovacci venivano uccisi in un sanguinario attentato in Congo. Un sanguinario attentato che scosse tutta l'Italia che si unì al dolore delle famiglie di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. La Procura di Roma, che sta indagando a giugno di quest'anno, ha iniziato a fare luce su una parziale verità. Non abbiamo individuato mandanti assassini, ma la Procura di Roma ha avanzato un'ipotesi di responsabilità per omicidio colposo, per omissioni di cautela nei confronti di Mansur Ruagazza, funzionario del PAM, agenzia dell'ONU, legata al programma alimentare mondiale. Pare che gli investigatori abbiano contestato a Ruagazza che non avesse chiesto una scorta armata nonostante la pericolosità della zona, che non avesse previsto un autoblindo, che non avesse previsto i giubbotti antiproiettili come da protocollo e, fatto ancora più grave, Presidente Fico, che avesse falsificato i nomi di coloro che partecipavano alla missione, fra cui proprio quello di Luca Attanasio, perché diversamente avrebbe dovuto prevedere una scorta armata che avrebbe risparmiato la vita di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci. Ruagazza, di fronte alle contestazioni degli inquirenti, non ha saputo fornire termine spiegazioni agli investigatori. E' stato iscritto nel registro degli indagati e in termini gravissimi e strumentali l'ONU e la PAM stanno eccependo la immunità di Ruagazza che discenderebbe dal fatto che la PAM ha eletto la sua sede in Italia. La Procura ha già respinto al mittente questa interpretazione falsa, strumentale e destituita di ogni fondamento giuridico. La Procura di Roma ha detto che le immunità valgono per i funzionari accreditati presso la PAM in Italia e Ruagazza non lo era. Sappiamo, da notizie giornalistiche, che il Ministro degli Esteri sta conducendo, pare, una battaglia per avere invece verità. Noi chiediamo che il Ministro degli Esteri venga a riferire in Parlamento, ci racconti quale sarà la roadmap all'interno del PAM e di ONU per avere verità per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Le chiediamo quindi, Presidente, la ringrazio per il tempo che mi ha concesso, perché noi finanziamo tramite AICS PAM e allora noi possiamo mettere in campo operazioni politicamente importanti per difendere la verità, la dignità nazionale e l'onore, l'onorabilità e la memoria di due servitori dello Stato, perché se rimangono impuniti è una mortificazione per le loro famiglie e un oltraggio per l'Italia, non ce lo possiamo concedere. Grazie.